Ridebutto con Gondo, il meglio che si potesse pensare. Sì, sono contento per la vittoria ovviamente, ho trovato un ambiente molto sereno, veramente sono rimasto soddisfatto perché in genere dopo una retrocessione c'è sempre un po' di malumori, invece ho trovato un ambiente giovane, disponibile, bravi, si lavora bene, quindi sono contento che questa vittoria, che è un inizio di un percorso, sia un piccolo premio per continuare a lavorare bene. Sicuramente se avresti entrato nella ripresa, invece cambiano tutto per il posto di Silvico, quindi come ti sei trovato così? Sì, non gioco da tre mesi, non ho fatto la preparazione, quindi sicuramente ho grossi margini di miglioramento fisici, però la voglia di tornare qui, la voglia di giocare per l'Ascoli, a volte va oltre anche la carenza fisica, non il massimo della condizione, quindi io ho fatto di tutto per tornare qui e ogni volta che gioco voglio dare il meglio di me per la squadra. Il colo quindi è una buona premessa, è arrivato con un inserimento a rimorche, avrei capito che la palla ti riferirà da lì. Sì, avevo capito perché era l'unica soluzione dove poteva metterla il mio compagno, il gol, sono contento, però al di là del gol voglio aiutare la squadra, voglio essere determinante anche con gli assist, anche con le prestazioni, essere un punto di riferimento anche per i più giovani, quindi fare la differenza a 360 gradi, non solo con gol o assist. Grazie. Prego.